Ok, andiamo Ok, andiamo Ok, andiamo Alla rotatoria prendere la prima uscita Uscire adesso Ok, andiamo 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 a destra e poi continuare dritto. Andare dritto. Tenersi a destra. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Andare dritto. Voltare a destra. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.